Io sono Domenico Tomati, sono il direttore della comunicazione del Consiglio regionale, vi do il benvenuto e vi ringrazio di aver accolto il nostro invito al Salone per presentare il volume di Gian Maria De Paulis, Facebook Genitori alla riscossa. Dicevo prima parlando con l'autore e con l'editore che oggi ho potuto dare una veloce scorsa al volume e la cosa che mi ha favorevolmente impressionato e mi ha convinto della bontà dell'operazione che il Consiglio e il Core, come su sollecitazione del Presidente Bruno Geraci, ha fatto nei confronti di questa iniziativa, per l'acquisizione di questa iniziativa, è stata una cosa positiva perché questo volume non si lancia in speculazioni di carattere filosofico, sociologico, sull'uso di Facebook, ma semplicemente, e non lo dico in senso diminutivo, ecco nel senso positivo, presenta una realtà operativa, una sorta di manuale per spiegare come funziona Facebook e come si usa e ci si difende anche dagli usi impropri di Facebook ed è utile secondo me non soltanto ai genitori ma a tutti noi che dobbiamo imparare a confrontarsi con quello che è comunque il social network più diffuso al mondo, il 90% dei ragazzi italiani lo usa, oltre un miliardo credo siano gli account a livello mondiale. E quindi è utilissimo questo manuale perché anche a me che uso FEA ha fatto scoprire, così sfogliando le pagine, alcune cose che non sapevo. Inoltre è una cosa molto interessante perché è un libro che è anche un ipertesto, se loro vogliono sfogliarlo, nel senso che in certi punti sono stati inseriti dei QR code, queste evoluzioni del codice a barre che con una app semplicissima che si scarica gratuitamente consentono di accedere a ulteriori contenuti. Concludo brevissimamente questa mia introduzione prima di lasciare la parola al vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba che porterà il saluto ufficiale del Consiglio dicendo che come è giusto, e in questo libro infatti non lo si fa, non si devono demonizzare a mio avviso questi nuovi strumenti della informazione e della tecnologia, semplicemente si tratta di farne un uso utile e proficuo per lo sviluppo culturale e sociale delle nostre comunità. Venendo qui ho passato di fronte allo stand dell'Arabia Saudita, che è un illustre ospite del salone di quest'anno, mi è venuto in mente questo aneddoto, che una volta il fondatore dello stato dell'Arabia Saudita, Abdelaziz mi pare si chiamasse, voleva cercare di introdurre nel suo regno, subito dopo la seconda guerra mondiale, la televisione e per convincere i religiosi, gli ulema, che la televisione era una cosa utile per il suo popolo, chiamò tutti questi ulema, i principali ulema, gli mise davanti a un televisore e gli fece assistere a una predica di un loro collega, e quando è finita la predica, spenta la televisione, disse vedete che la televisione è come una spada, la si può usare bene o la si può usare male, e così si può dire secondo me di Facebook, come disse Abdelaziz della televisione. Grazie ancora, la parola a Fabrizio Comba. Grazie Domenico, buonasera a tutti, a nome del Presidente Valerio Cattaneo, che oggi per impegni precedentemente assunti, precedentemente assunti, non ha potuto essere qui con noi, ma vi porto un suo caloroso saluto, saluto caramente e porto il saluto del Presidente Cattaneo al nostro Bruno Geraci, il nostro Presidente del Corecom, e al autore Gian Maria De Paulis. Anche quest'anno il Consiglio regionale rinnova la sua attiva partecipazione al Salone Internazionale del Libro, per noi ormai un appuntamento fondamentale, importante nel percorso che ci vede impegnati nelle varie iniziative durante tutto l'anno solare. L'idea da cui è nata la pubblicazione di questo volume, Genitori alla Riscossa, è certamente la diffusione in questi ultimi anni di un fenomeno importante come quello legato a tutti i social network. Oggi più che mai è necessario porre la massima attenzione a questi nuovi strumenti di comunicazione, a tutti questi social network, soprattutto quando si parla di minori, di ragazzi, di persone in giovane età. E ancora di più, devo dire, quando si parla, perché siamo sempre molto sensibili, quando si vanno a toccare cose o persone a noi vicine. Quindi ancora di più quando si parla dei nostri figli. E quindi ci poniamo anche la domanda di come possono essere tutelati questi giovani. In che modo la comunicazione di rete può interferire con quelli che sono i processi di crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni. Ecco, noi ci siamo posti delle domande, ma devo dire che molte risposte, anch'io domenico ho avuto modo questa mattina di dare una scorsa molto veloce, però prometto, anche perché mi sento particolarmente interessato, ho considerato che ho due figli in giovanissima età, Facebook è diventata veramente, è diventata anche per noi più attempati, è diventato un, oltre che, come diceva Domenico, uno strumento anche di comunicazione sociale, ma in qualche maniera anche strumento per veicolare per chi come noi deve e vuole trasmettere dati, informazioni sull'operato, su tutte le nostre cose, uno strumento assolutamente importante. Quindi sarò sicuramente più puntuale nella lettura e nell'approfondimento. Comunque sono domande che quotidianamente abbiamo il dovere di porci, poiché questi social network come Facebook, Twitter, che peraltro io, tu sei un affezionato a Twitter, devo dire, un fanatico, io invece su Twitter ho ancora qualche preclusione, sono ormai la piazza virtuale di quello che è il futuro, della nostra società, dei nostri giovani, che poi sono soggetti che vanno tutelati con la grande attenzione e con la massima sensibilità, perché sono soggetti forti apparentemente, ma assolutamente esposti ai massimi rischi. Quindi, come diceva il dottor Tomatis, è uno strumento che può essere usato come una spada per trafiggere, ma può essere uno strumento invece di grande successo e che può dare grandi opportunità. Noi vogliamo e cerchiamo, anche grazie a questa pubblicazione, a questo libro, noi siamo certi di poter raccogliere tutti quei suggerimenti utili affinché possa essere uno strumento utile e uno strumento di crescita. Per poter quindi accompagnare i giovani a un uso corretto della rete è anche necessario in quanto noi stessi fruitori, i primi fruitori, siamo consapevoli quindi delle potenzialità. La condivisione di dati, di riferimenti personali, di cose sempre più personali e sempre maggiormente personali che interessano la sfera proprio del privato e lo scambio in rete comunque di queste informazioni deve in qualche maniera trovare una tutela e deve essere comunque accompagnato da una scelta attenta e ponderata. Questa pubblicazione per la quale ti ringrazio è stata realizzata con il nostro contributo e con il contributo del Corecom. Un Corecom, devo dire, particolarmente virtuoso. Domenico, noi siamo veramente onorati di avere un Presidente attento che sta facendo, abbiamo avuto qualche giorno fa modo di, e Domenico lo sa, di accarezzare questo argomento in una materia così delicata, un compito così importante che viene fatto dal nostro Presidente regionale con una grande cura e con una grande professionalità d'altronde come ha contraddistinto tutto il suo percorso professionale. La professionalità e la serietà. Quindi io sono certo che non solo gli appassionati ma tutti noi potremo trovare spunti importantissimi dalla lettura di questo volume. Ringrazio nuovamente e saluto i partecipanti, le persone che hanno voluto condividere questo momento di presentazione. vi ringrazio di essere intervenuti e soprattutto auguro a tutti voi un augurio esteso a tutti quanti di una buona lettura. Facciamo nostre queste informazioni così importanti. Grazie. Bene, sulla scorta della brevità di introduzione di Domenico Tomatis e della Vicepresidente Comba conto anch'io veramente di fare un ragionamento che va come dire ad inquadrare la questione e anche a spiegare perché noi Corecom insieme al Consiglio regionale abbiamo creduto che fare questa operazione e cioè pubblicare questo libro di Gian Maria De Paulis rappresenti in qualche modo una sorta di servizio pubblico forse pochi sanno che io sono stato anche il responsabile della RAI qui in Piemonte quindi da servizio pubblico passo ad altro servizio pubblico pochi non credo da servizio pubblico a servizio pubblico è giusto per darvi l'idea anche di cosa voglia dire servizio pubblico sapendo che il Corecom oltre che a fare queste cose ne fa moltissime altre tra cui fa anche le conciliazioni fra i cittadini e i gestori di telefonia mobile fissa ecco per darvi l'idea di cosa voglia dire servizio pubblico nel 2012 il Corecom nella gestione di queste conciliazioni ha fatto risparmiare ai piemontesi 2 milioni e 40 mila euro di bollette stornate di rimborsi e via elencando questo per darvi l'idea di come noi intendiamo anche lavorare grazie a degli uffici che qui sono rappresentati dalla dirigente dottor Princi ma vedo anche qualche altra collega grazie per essere con noi però devo dirvi per farvi capire cosa voglia dire servizio pubblico allora collegandomi a questo discorso del servizio pubblico quando il presidente nazionale del Corecom Filippo Lucci che è qui con noi mi disse Bruno vorrei farti vedere un libro che a mio avviso è molto interessante lo vedemmo insieme mi fece conoscere Gian Maria De Paulis e devo dire che mi affascinò affascinò insieme anche i miei due colleghi di di Corecom che sono la Tiziana Maglione vicepresidente e Ezio Ercole che oggi si scusano per non poter essere perché uno è da una parte e uno è dall'altra dell'Italia però ecco sulla scorta di questo ragionamento sul servizio pubblico noi abbiamo voluto fortissimamente avere la possibilità di in qualche modo essere come dire compagni di viaggio dei soggetti più importanti all'interno del nucleo più importante della nostra società la famiglia noi sappiamo benissimo che fare i genitori oggi è più che mai difficile lo è stato sempre da quando ci si è uniti in gruppi per formare le prime famiglie lo è stato sempre certamente però oggi la velocità dei tempi il mondo che corre in un certo modo fa sì che la risposta sia meno pronta nella società patriarcali nella società in cui era in qualche modo facile erano anche quelle società analogiche nel senso che erano come dire sequenziali il padre la madre i figli le nonne e via l'incanto adesso c'è un pochino più di pasticcio allora ecco il motivo per cui anche probabilmente la società si è digitalizzata e quindi anche la società risente di questa velocizzazione di tutto ed è il motivo per cui noi ci siamo detti ma per quale motivo non istruire quelli che possono essere i più importanti compagni di viaggio dei figli dei propri adolescenti che fanno questo per amore solo per amore lo fanno perché loro vogliono ardentissimamente che i loro figli in qualche modo vivano la contemporaneità del tempo che corre ma contestualmente li vogliono tutelare e badate è un'enorme sciocchezza credere che internet e la rete facebook twitter e via elencando siano strumenti del demonio siano strumenti cattivi sono strumenti li facciamo diventare buoni e cattivi a seconda di come li usiamo è come prendersela con il pesce cane credendo che sia cattivo ma madre natura gli ha dato questo compito e lui lo svolge a pieno talvolta con qualche difficoltà per noi nuotatori ecco allora perché vi dicevo che gli strumenti bisogna saperli utilizzare e chi mi dice che non ha in casa la televisione sempre meno perché non vuole contaminarsi e non vuole contaminare la propria famiglia dice una sciocchezza infinita perché grazie a Dio c'è quello strumento di libertà che è il telecomando e spengo e secondo si chiude una finestra sul mondo formidabile ecco allora perché devo dire che bisogna riacquistare la centralità la centralità della persona quella che sceglie che decide e si comporta di conseguenza ecco allora l'importanza che i genitori possano accompagnare i figli senza senza aver timore dello strumento nuovo talvolta mi capita di andare ancora o all'università però anche nelle scuole medie e superiori e qualcuno mi dice che i figli li prende magari molto in giovane età li mette di fronte al televisore al televisore così vengono abbacinati dalle immagini del del televisore e così spesso anche non rompono nel senso vero della parola non sapendo che fanno un'operazione tragica perché ovviamente anche lì l'accompagnamento nel media per eccellenza che è la televisione deve esserci qualcuno che in qualche modo gli fa vedere intanto le cose che sono consone all'età che i figli vivono ma soprattutto laddove c'è la necessità di un aiuto spiegare ecco allora ancora una volta ritengo che sia importante importantissimo la centralità della genitorialità essere genitori è un mestiere una fatica un lavoro talvolta infane ma bisogna avere il coraggio di svolgerlo sino in fondo perché badate l'amore dato ai figli vi viene restituito nel tempo con grandi interessi ve lo dico da padre quindi sappiate che questo vi viene restituito con grandi interessi se siamo disattenti se i nostri figli in qualche modo vengono trascurati provochiamo loro grandissimi guai anche perché la rete non è un caso non è un caso che Gian Maria come sottotitolo metta Vademecun per non smarrire i propri figli online avrebbe potuto coniugarlo anche per non far cadere i nostri figli nelle trappole della rete nel senso che la rete è un meccanismo molto 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 come dire suadente e ha una possibilità infinita pensate che molti sostengono che le due grandi scoperte dell'umanità nel corso di tutto il tempo in cui noi mettendoci in piedi ci siamo separati da quel branco di primati che non si era abituato a cominciare a modulare le prime parole o i primi suoni culturali molti sostengono che le due scoperte più importanti che hanno cambiato il mondo sono da una parte la ruota pensate alla ruota pensate tutt'oggi è ruota dalle viti che tengono insieme questo tavolo è una ruota a tutto quello che vi fa trasportato qui vi fa camminare vi fa volare e così via è internet perché ha messo insieme una formidabile rete di comunicazione ha messo insieme una capacità di interconnettersi ma chi di voi poteva immaginare soltanto vent'anni fa che noi saremmo arrivati a questo chi poteva immaginare perché intanto perché le aziende investono là dove c'è reddito e siccome l'unica area in questi tempi di crisi nel mondo che non conosce crisi è il mondo del digitale ogni giorno non è un caso che la apple e la samsung si rincorrono con l'iphone 5 e l'altro invece con il galaxy 4 con l'ultimo 4s quindi ecco allora giusto per comprendere un pochino meglio le ragioni di Gian Maria De Paulis a cui tra brevissimo passerò la parola genitori alla riscossa sulla vicenda facebook vuol dire proprio questo la rete è così vasta così importante così e suadente come dicevo un attimo fa per cui cattura molto e cattura talvolta in maniera sbagliata ma vi ripeto ancora una volta non è la rete che è cattiva la rete è quello che la genialità umana ha messo a disposizione e che in qualche modo deve essere usata al meglio noi genitori voi genitori siete chiamati a dare una risposta intelligente come qualunque genitorialità presuppone ed è il motivo anche per cui De Paulis l'ha intitolato genitori alla riscossa perché mi diceva qualche tempo fa che si era accorto che in fondo la passività della famiglia e quindi dei genitori stava diventando un grande problema questo è un libro che ci aiuta a aiutare il bene prezioso della nostra genitorialità cioè i nostri figli ecco il motivo per cui allora noi Consiglio regionale e Corecom abbiamo creduto opportuno e questo libro lo andremo a presentare in tutte le scuole in tutti i luoghi dove in qualche modo riusciremo a far capire sarà un regalo del Consiglio regionale e del Corecom questo libro non lo venderemo lo regaleremo perché riteniamo che sia un mezzo per fare ancora una volta quella parte più alta più nobile della politica che si chiama servizio agli altri grazie allora sarò io a presentare l'autore Gian Maria De Paolis tra l'altro c'è qui anche l'editore da qualche eccolo scusa ti ha rispostato e quindi Gian Maria toccate raccontarci come sei partito dove vuoi arrivare e soprattutto come utilizzare questo tuo libro bene grazie buonasera a tutti inizialmente è doveroso ringraziare questa sinergia che si è creata con i Corecom che ogni giorno che passa mi entusiasma sempre di più ringrazio il presidente Geraci che fin dall'inizio ha creduto subito nel progetto ringrazio il dottor Compa che è stato le sue parole sono state chiare mirate operative il dottor Tomatis che ha subito colto quello che è l'obiettivo mi permetto anche di ringraziare le due persone che sono entro il pubblico anche il presidente Lucci il Correcom nazionale che ha creduto fin dall'inizio al progetto e anche la dottoressa Baudino che ci è stata gentilissimamente in come dire è stato un supporto importante per far uscire una cosa molto molto corposa che è questo libro qui Facebook genitori alla riscossa ma soprattutto quasi sarete tentato a cambiare il titolo Facebook i vostri genitori come compagni di viaggio mi è piaciuta tantissimo questa definizione perché esattamente questo è lo spirito di un libro di un libro che è un manuale operativo è un va de me con questa parola latina che a me piace tantissimo perché è un qualcosa che ci deve accompagnare in quello che è la vita quotidiana perché oggi utilizzare Facebook per i giovani è vita quotidiana e purtroppo quando notiamo delle passività da parte di quelli che sono i genitori o le persone più vicini ma come genitori io metto dentro anche educatori formatori maestri professori tutte quelle persone che accompagnano il percorso formativo del ragazzo ecco di fronte a questi strumenti hanno imbarazzo a volte paura e quindi fanno un passo indietro qualche giorno fa eravamo in una conferenza in un convegno dalle parti dell'Abruzzo e mi ero permesso di fare una battuta ma proprio per far capire come sta cambiando rapidamente il modo di interrelazionarsi all'interno della famiglia oggi i motori i giovani giovanissimi vanno su Google vanno sui motori di ricerca ovviamente non è che l'ho cognato io questa analisi è un risultato di studi che sono stati effettuati a livello mondiale però in realtà oggi è così quindi se un giovanissimo ha un nonno che è un motore di ricerca che cosa è Facebook il cugino più stretto a cui confidare tutto e questo problema di confidare tutto che sembra una cosa che alla fine su Facebook su un computer cosa può fare diventa un problema diventa un problema perché confidare tutto per un minorenne per un ragazzo che non sa cosa lo strumento può in realtà scatenare nello stesso tempo un genitore che casomai non immagina che pubblicare una foto non adatta su Facebook può divenire un problema ecco i giovani cominciano ad aprire non loro stessi ma aprono le porte di casa aprono i profili alle loro foto alle situazioni più imbarazzanti fino a raggiungere casi che ve ne dico solo alcuni casi di sexting quindi momenti in cui girano foto di ragazzi casomai un po' come dire con delle partiose in mostra oppure casi di bullismo cyberbullismo che diventano molto forti e molto violenti nei confronti dei minori quindi il discorso quale è che questi genitori devono un pochino accompagnare devono in qualche maniera avvicinarsi allo strumento come ci si avvicina allo strumento ci si avvicina però insieme ai figliuoli ci si siede di fianco si analizza ci cerca di far capire cosa significa pubblicare una foto o banalmente cosa significa gestire la privacy oggi i dati che ci tornano da quelli che sono analisi di tutto il mondo non dell'Italia dell'Europa ma di tutto il mondo è che i ragazzi non sanno cosa significa gestire purtroppo la privacy quindi inserire una foto non controllarla diventa un problema che questa foto può andare in mano a chiunque la privacy è un qualcosa che non è facile all'inizio vi faccio un esempio banalissimo pensate che i giovani fanno a gara per chi ha più amici cioè su internet e su facebook in particolare nella propria nel proprio gruppo nella propria classe si è fighi così si definisce si è gansi se abbiamo più di 600 più di 700 amici quindi c'è una corsa a chiedere a prendere amicizie senza sapere a chi stiamo dando l'amicizia e questo è un problema perché un esempio banalissimo nel momento in cui si crea un collegamento di amicizia su facebook significa comunque abbassare il nostro livello di privacy cioè dare maggiore informazione a quelle che sono le persone dall'altro capo e se poi queste persone in realtà ci chiedono l'amicizia per altri fini che non sono quelli di chattare di scrivere un email o di incontrarsi diventa un problema prima parlavamo col presidente appena sono arrivato l'ultimo caso questa mattina ho letto su google news due secondi vi descrivo subito era una banda che lavorava su tutto il territorio italiano composto da due ragazze minorenne e cinque persone maggiorenne praticamente due ragazze carine di buona famiglia chiedevano l'amicizia al ragazzo una volta che si è restaurata questa amicizia su facebook nell'arco di una settimana richiedevano un incontro a casa per un caffè per sconoscersi le due ragazze andavano a casa della povera vittima una faceva finta di sentirsi male e diceva di andare via e si nascondeva in casa l'altra invece aveva l'obiettivo il compito di portare invece questo compagno questo amico che aveva la vittima appunto a fare una passeggiata nel momento in cui uscivano la prima ragazza che si era nascosta chiamava i suoi amici e in cinque venivano e svaliggiavano la casa sono stati arrestati questa mattina quindi è importante capire come facebook era lo strumento per entrare in casa non era un problema che erano arrivati ladri il problema è che erano già entrati erano entrati proprio attraverso lo strumento e faccio un altro esempio banale su facebook c'è una configurazione o meglio c'è un'impostazione che ci permette di dire qual è la nostra città natale dove siamo nati e qual è la città dove ci troviamo in questo momento beh sappiate che la maggior parte dei furti avviene quando i piccoli i bambini dicono che sono in vacanza casomai dall'altra parte del mondo e quindi chi è dall'altra parte se non ha gestito in maniera corretta la privacy il bambino chiunque può dire ah se il ragazzo è ai Caraibi in vacanza o è in vacanza ostia la casa è vuota e vanno ad effettuare furti quindi è come mettere un cartello tre per sei per strada e dire io sono in vacanza casa mia è libera entrate lasciamogli le chiavi almeno non rompono la porta cioè questo è lo spirito bisogna stare molto molto attenti a quello che si va a pubblicare io porto casi a volte reali ma ci sono casi reali nei confronti della famiglia ma a volte poi ci sono casi nei confronti dei minori dei bambini una ragazza Miss Modena 2008 partecipò a un concorso di Miss Italia dove arrivare in finale purtroppo lei fu totalmente cacciata dal concorso per il semplice fatto che su internet aveva pubblicato delle foto o se erano delle foto in reggiseno e slip fatte però in bagno quindi una situazione un po' piccante beh queste sono state delle foto che hanno rovinato la sua carriera perché lei voleva comunque essere una modella essere nel mondo dello spettacolo ma ne posso portare altre mille esempi quando si fa anche selezione del personale qualche volta ricordate sempre la rete a memoria la rete a memoria quando si fa selezione del personale nelle aziende a 16-17 anni si tenta a volte a pubblicare delle foto in cui si è con gli amici si fa un po' i ganzi si tende un pochino a uscire fuori dalle righe ed è già sbagliato ma il problema è che poi nessuno le toglie quelle foto e quella memoria resta beh quando si va nelle aziende a fare i colloqui tendenzialmente nel momento in cui si è chiuso il colloquio sappiate che le aziende vanno a verificare i profili facebook cosa hanno pubblicato cosa non hanno pubblicato di qualche giorno fa no scusatemi di qualche mese fa un paio di mesi fa una persona non è stata assunta in Sardegna perché aveva criticato in maniera non così diciamo corretta il problema dell'ILVA quindi il problema dell'ILVA da tutt'altra parte dell'Italia era stata criticata su facebook da questo ingegnere perché si trattasi di un ingegnere in maniera non proprio correttissima e l'azienda che doveva assumerlo non l'ha assunto quindi tutto ciò che noi andiamo a seminare online lo ritroviamo dopo del resto permettetemi io giro una slide che a me piace tantissimo il pulsante con cui inseriamo le informazioni su facebook ma così vale per qualsiasi social network facebook perché ormai c'è il miliardi e 300 mila utenti iscritti ma il pulsante con il quale inseriamo le informazioni su internet e su facebook in particolare non si chiama inserisci non si chiama carica si chiama pubblica quindi questo pulsante dovrebbe terrorizzarci nel momento in cui noi andiamo a scrivere una qualsiasi parola o andiamo a caricare una qualsiasi foto perché pubblica stiamo già dando la possibilità di far visionare quel contenuto a qualcuno è questo che bisogna trasferire questa cosa importante trasferire ai ragazzi ragazzi stiamo pubblicando cioè state rendendo pubbliche delle cose vostre personali e non solo primo passaggio far capire della pubblicazione ma far capire anche dove è il confine fino a dove ci si può spingere a pubblicare il libro è partito da un un caso concreto che è capitato a me personalmente circa un annetto e mezzo fa devo dire che questa è la terza edizione sono anche contento che sia proprio il corecom Piemonte insieme al consiglio regionale ad aprire questa terza edizione del libro molto più corposa molto più ricca aggiornata con l'ultimissima versione di facebook ma questo libro è partito da un'esperienza che è capitata a me io sono abruzzese ero a Tortoreto una località turistica passeggiando in bicicletta con un amico caro a un certo punto mi diceva che il suo figliuolo nove anni da grande voleva fare l'informatico proprio lui farà l'informatico tu pensa è un genio a nove anni va benissimo ma perché è un genio ora ti dico che cosa ha fatto lui praticamente ha trovato la password di facebook di una sua amichetta è entrata nel profilo gli ha cancellato le foto ha postato ha inserito dei messaggi come diceva lui le ha cambiato l'email la password e non l'ha fatta rientrare la prima cosa che ho fatto io ero in bicicletta ho frenato l'ho guardato e ho detto ma non è successo null'altro e lui mi disse no però è bravo vero ho fatto sì peccato che lui non rischia niente a te rischi tanto sia dal punto di vista civile e penale perché quello con questa semplice operazione vengono violati almeno tre reati almeno tre reati e guardate che i reati di informatica sono quasi tutti penali furto di identità violazione di un sistema elettronico e furto di credenziali lì capì che non ci si rendeva conto di cosa si stava parlando in realtà un'azione negativissima da condannare immediatamente era diventata invece un'azione da poter identificare un genio dell'informatica e lì insomma capì che c'era qualcosa che non andava ma tutt'oggi guardate giro ma i convegni si giro in Italia ne parlo con tante persone e ancora benché è passato un anno e mezzo non ci si rende conto di quanto è delicato il passaggio di quando purtroppo i genitori a volte purtroppo internet e facebook in particolare non è come la televisione io sono della generazione della televisione tendenzialmente i miei genitori mi mettevano di fronte a televisione che seppur bene o male la subivamo un pochino però era la televisione oggi i genitori che fanno danno i tablet ai propri figli ecco prendete il tablet che io mi guardo la partita prendete il tablet che io mi guardo casomai un attimino un film solo che quel tablet va su internet solo che quel tablet non ha controlli e quindi i giovani vanno fanno pubblicano sono state pubblicate delle foto di carattere personalissimo su internet per il semplice fatto che un bambino di 6 anni cliccava guarda che bello mi appare guarda che bello mi appare quel mi appare era una finestra in cui diceva sei sicuro di voler pubblicare con la massima visibilità sì 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 praticamente ha pubblicato tutto il rullino fotografico che era nel tablet quindi questo è davvero è davvero un problema tornando al libro il libro è appunto un va de mecum operativo un va de mecum in cui si analizzano tutte le fasi dall'iscrizione a facebook da come si deve impostare il proprio profilo da come si devono impostare sia la privacy che gli account sulle metodologie di pubblicazione insomma tutto ciò che in qualche maniera deve viene utilizzato attraverso facebook a parte questa fase qui abbiamo anche inserito una serie di allegate a cui tengo particolarmente perché sono veramente operativi ci mancherebbe una serie di allegati molto operativi perché ad esempio faccio un esempio banalissimo riuscire a riportare quelli che sono degli storici casi di cyberbullismo che sono nati nel 2006 nel 2007 e l'ultimo aggiornato a novembre perché l'ultimo caso è di novembre che partono dagli Stati Uniti ma che sono finiti in Italia perché ci sono persone che purtroppo proprio tramite facebook a volte si sono suicidate dei ragazzi e quant'altro quindi riportare questi casi serve a far capire quando lo strumento può essere pericoloso se non gestito attenzione io sono a favore di questi strumenti come prima diceva il presidente Geraci a favore perché questi sono il futuro sarebbe assurdo dire oggi a un giovane io non ho il computer a casa perché papà non vuole chi mi connette è pericoloso significa tirarlo fuori dal mondo significa che lui quando andrà a lavorare non saprà neanche come scrivere una lettera questi strumenti si devono avere in casa occorre utilizzarli io spingo a iscriversi su facebook e lo sapete perché lo spingo perché oggi si chiama facebook tra 5 anni ci sarà un social network molto più potente molto più grande cominciamo da subito ma non spingo i giovani che già ci sono spingo i grandi a iscriversi ma qualche volta qualcuno mi dice no per l'amore di dio facebook ma i dei figli si loro ci sono si che cosa fanno loro sanno cosa fare ma assolutamente io su facebook non ci vado ed è sbagliato ma quando vostro figlio o un qualsiasi vostro ragazzo qualche d'uno doveva insegnargli a portare la bicicletta gli avete dato la bicicletta gli avete detto ma scrociti con la bicicletta non credo in realtà siete messi un pochino lì vicino l'avete retto avete cercato di aiutarlo e questo è importante ed è importante anche per un altro motivo e mi ricollego al discorso che ho fatto inizialmente i nonni oggi sono i motori di ricerca così come i genitori non sono un punto di riferimento per le conoscenze di un figlio perché oggi se un bambino dice papà posso scaricare un'app il 90% facciamo il 60% dei genitori guardano e dicono non so né che cosa è un'app né che cosa significa scaricare serve chiamiamo qualche amico la scarichiamo in due o tre ma perché perché non sono più detentori del sapere se a tavola facebook è stato dimostrato che è una rete sociale un social network quindi tende a creare relazioni sociali e di queste relazioni sociali si parla un po' come quando si faceva la partita a calcio e poi si parlava a tavola se ho giocato mi ha dato una spinta abbiamo litigato abbiamo fatto pace la stessa cosa funziona su facebook e sui social network in genere quindi cosa significa che anche a tavola a casa se ne devi parlare quotidianamente ma ad una frase papà mi hanno taggato che dici lo segno come spam oppure disattivo il servizio e un genitore risponde fai come credi tu la seconda volta quella domanda non avverrà non verrà più richiesta perché il figlio il ragazzo capirà che lì non è un centro di conoscenza e quindi si perde quel riferimento che noi casomai avevamo cioè quando un problema chiede una soluzione e dove si va a chiedere la soluzione agli amici che casomai sanno ancora meno di me e quindi si innesca a catena una sorta di reazione io vi consigliere andate su google news che è un servizio su google quando andate in atto c'è news o novità ci cliccatevi da tutte le news e scrivete facebook vedrete che ogni 3-4 giorni viene sempre pubblicata una notizia di cyberbullismo violenza furti sempre ma non per ripeto per lo strumento bensì perché nessuno ha insegnato ai ragazzi come gestirlo il più delle volte ha a che fare sempre con i minorenni tornando al libro questo libro appunto questa terza edizione è multimediale abbiamo quasi una lettura aumentata perché ci sono dei codici QR dove siamo andati a collegare in maniera li vedete guardate lo vedete nella prima pagina ecco sono dei piccoli codici che trovate a fianco dei paragrafi e questi codici permettono dell'argomento analizzato tramite degli smartphone dei tablet andare subito a vedere dei filmati scaricare dei documenti scaricare proprio dei documenti reali Word, Excel per poter interagire con la propria famiglia tra uno dei capitoli che a me ha sempre affascinato e viene molto dalla cultura americana è regole familiari per l'utilizzo di Facebook cioè si è pensato pensato di inserire quello che è una sorta di contratto formale da stampare da sottoscriverlo da firmarlo il papà la mamma e relativi figli da mettere di fianco al computer perché deve essere una sorta di reale contratto che si ha tra i figli e tra i genitori una sorta di regola ma non la regola ricordate sempre io lo dico perché lo posso dire per la mia esperienza la regola non serve per inquadrare in realtà serve per far funzionare le cose quando ci sono le regole so dove posso andare e so cosa posso fare qualche volta si può sbagliare non ci mancherebbe però anche lì ci sono quando si sbaglia a cosa va d'incontro quindi un'idea per esempio che ci è venuta per aiutare è anche quella di creare questa sorta di contratto do un consiglio pratico il computer per un ragazzo non va mai messo nella sua cameretta più piccolo il ragazzo è più dannoso mettere il computer nella cameretta i computer all'inizio vanno messi nei punti di passaggio non voglio dire in sala potrebbe sembrare brutto ma in un punto di passaggio dove un genitore con un'occhiata può controllare quello che sta facendo perché guardate che tirare giù una finestra è un click voi pensate che nel momento in cui entrate nella camera senti passi aprite la porta andate dietro al computer quello sta ancora là a fare le cose illegali le cose che non deve fare secondo me sta scrivendo la più bella relazione o sta studiando leopardi in quel momento invece quando in un punto di passaggio è un attimo vedere che quando avvicinate voi che è successo che stavi vedendo no niente niente mi apre un attimo la barra degli strumenti sotto vediamo che cosa c'è la seconda volta ci sta un pochino più attento a fare questa operazione parlavo delle appendici quindi gli storici casi di bullismo ho inserito pure un questionario per capire l'importanza che ho studiato l'importanza che Facebook ha nei confronti di un ragazzo di un figlio quanto è importante per lui mediamente importante deve essere ma ci sono casi abbiamo fatto dei test in cui sembrava che se non esistesse Facebook alcuni ragazzi non sapevano più come fare amicizie abbiamo messo un altro un altro che ho preso spunto da un libro che è l'elogia che è un libro di Crepet l'amicizia su Facebook ma è un'amicizia reale e qui ritorniamo al discorso abbiamo 500 amici 1000 amici 2000 amici ma in realtà quanti ne conosciamo ma soprattutto quando parliamo di amici sul libro troverete una cosa molto particolare c'è l'amicizia con la maiuscola e c'è l'amicizia con la minuscola l'amicizia con la minuscola è la vera amicizia quella che Cicerone ha citato nelle sue opere di amicizia o meglio di amicizia poi c'è l'amicizia con la maiuscola nel libro troverete l'amicizia con la maiuscola è quasi un nome personale è l'amicizia di Facebook che non ha nulla a che fare con quell'amicizia che abbiamo vantato e che i nostri autori medioevali latini e quant'altri hanno scritto nella storia dell'umanità l'amicizia di Facebook è un'amicizia io quando dico sia di un'amicizia può vedere le mie foto può vedere con chi parlo con chi sono è un'amicizia casomai di una persona che si trova all'altro capo del mondo che non so neanche che viso ha mi sembra non mi sembra proprio che possa essere inquadrato abbiamo poi riportato e qui ci siamo supportati anche da altre pubblicazioni anche come dialogano i ragazzi con la famiglia come i genitori rispondono e come i ragazzi interloquiscono quali sono le battute perché perché ci siamo resi conto che questi dieci 15 esempi di come avvengono i dialoghi tra i giovani e i genitori tra i giovani e gli educatori hanno dei modelli esattamente li possono cambiare gli argomenti ma il modo di procedere è esattamente lo stesso e poi un'altra cosa mi chiedevano stamattina che sembra un pochino l'arca perduta ci si può cancellare da Facebook? ma certo ci si può cancellare altrimenti c'è una legge che si chiama bravi sarebbe violazione ma certo ci si può cancellare è un po' nascosto e non è il disattiva che noi troviamo nelle nostre impostazioni account ma ci si può cancellare c'è un percorso e una procedura per cancellarsi definitivamente da Facebook e dopo 14 giorni se non rientriamo viene eliminato tutto che sembra una cosa strana ma in realtà perché c'è questo mito che non ci si può cancellare attenzione una cosa come il pulsante pubblica lì non c'è scritto cancellati lì c'è scritto disattiva da altre parti c'è proprio la cancellazione dico un'altra cosa banale quasi tutti i giovani che ho incontrato non sanno che su Facebook c'è un'opzione che rende visibile il profilo e i motori di ricerca quindi quando scrivo il mio nome è Gio Maria De Paulis apparirà il mio profilo certo il mio profilo sarà limitato alla visibilità che io ho dato ai contenuti però se io disattivo quella voce all'interno della privacy il profilo non andrà proprio sul motore di ricerca sarà bloccato e quindi un'ulteriore protezione a quella che è la privacy cioè ci sono veramente tanti tanti ma tanti elementi che devono essere gestiti ma per il semplice fatto che se non vengono gestiti si può poi incappare in problematiche problematiche che possono essere banali più delle volte ma molto complesse e gravi ormai purtroppo non più raramente non più raramente perché io vi ho detto un esempio mettete facebook e vedete cosa succede ma veramente se mettete la parola minori ne vedete di tutti i colori i social network servono anche ad aiutare facebook ha aiutato anche tante persone ha aiutato persone che casomai si volevano suicidare sono state salvate perché avevano scritto su facebook aiuta persone che hanno difficoltà diversamente abili tramite facebook possono comunque rimanere in contatto e sentirsi quindi ritorniamo a dire che lo strumento in realtà lo strumento non è né cattivo né buono io direi buono perché permettetemi il mio mondo è entusiasmante parlare alle 10 di sera con una persona che si trova dall'altro capo e ti dice io vado a dormire qui sta spuntando il sole è veramente fantastico poter scambiare due foto l'altra volta ero in ufficio mi serviva un documento non riuscivano a trovarlo sulla mia scrivania gli ho detto accendi il cellulare attivi il servizio video e io in streaming sul mio computer dicevo no togli il terzo foglio eccolo lì sotto c'è una cosa incredibile è come se io ero lì anche se non lo ero ma anche queste sono le nuove tecnologie quindi lo spirito qual è lo spirito è quello che è uno strumento che verrà Facebook o qualsiasi altro social network in futuro sarà utilizzato occorre esserci lì occorre esserci come genitori come educatori come insegnanti perché non si potrà più farne a meno e questo è un dato di fatto lo dimostrano ogni giorno i dati che abbiamo bisogna accompagnare i figli questo digital divide che oggi c'è è più accentuato perché casomai ci sono genitori che vengono da una generazione in cui i computer non venivano utilizzati o venivano utilizzati di poco probabilmente tra 20 anni il problema sarà diverso però oggi bisogna esserci bisogna capire lo strumento e cominciare anche a parlare quella lingua quello stesso linguaggio che parlano i ragazzi perché questo diventa un punto un briggio un ponte per far sì che da una parte i genitori possano e quindi gli educatori i professori possano tornare ad essere il centro della conoscenza il centro di riferimento per i giovani e dall'altra possono assicurare che i giovani siano seguiti in maniera corretta che i giovani abbiano a loro volto un punto di riferimento a cui rivolgersi e non alla fine smarrirsi per la rete perché va bene che un nonno una battuta che un nonno possa essere un motore di ricerca ci piace può essere simpatica può fare scena può essere commerciale però che un nonno sia sostituito da un motore di ricerca mi fa venire un pochino i brividi quindi il discorso è utilizziamoli perché qui sono gli strumenti del futuro e questo manuale è semplicemente il desiderio di dare appunto degli strumenti operativi stuzzicarvi un pochino quella che può essere un po' di curiosità ho messo un capitolo terribile l'editore non voleva che lo inserisse ma io l'ho inserito leggo solo il titolo i reati informatici e la legge italiana ne cito perché sono brevi i falsi nei documenti informatici accessi abusivi nei sistemi informatici detenzione e diffusione abusiva di strumenti atti a consentire l'accesso abusivo o il danneggiamento dei sistemi informatici forme di danneggiamento dei sistemi informatici frode informatica diffamazione e ingiuria su internet pedofilia pornografia pedopornografia e prostituzione minorile li ho messi perché? perché fanno paura perché io quando li ho letti mi hanno fatto paura a me e quindi casomai può essere un monito maggiore per stare attenti a quelli che sono quelle trappole online perché ce ne sono veramente veramente tanti ricordate che online non mi preoccupa quello che sta a Roma quello che sta a Milano quello che sta sotto a casa mia online il lupo come si identifica può essere dall'altra parte del mondo e il suo unico obiettivo probabilmente è quello di poter creare problemi ai giovani vicino a noi grazie allora grazie grazie a Gianmaria De Paulis io abbiamo ancora un minuto perché abbiamo i controlli sugli minuti esattamente volevo fare alcuni saluti intanto salutare Laura Di Fraia dell'Agicom grazie per essere venuta poi il collega Cucera che è presidente del Corre Convolsaro il collega Pietro Colonnella che è presidente delle Marche e grazie a voi mi spiace non abbiamo avuto tutto il tempo che probabilmente di cui avremmo avuto necessità per poter fare domande diciamo che ci rivedremo vabbè facciamo così grazie per essere stati con noi grazie buona serata grazie a tutti grazie a tutti